Partiamo dal calcio non giocato, si avvicina il mercato, insomma state già pensando all'attaccante da affiancare a Seterra, tornano i soliti nomi, Dionisi ma non solo? Non è una novità, io credo che l'abbia detto in più di un'occasione, noi dobbiamo lavorare lì, cercare di farlo il prima possibile per non aspettare tempi lunghi e cercare di prendere un giocatore che stia giocando in questo momento, quindi che abbia la preparazione fatta e che non sia fermo da mesi quindi cercheremo di portare a Pescara uno o due attaccanti che possano affiancare i nostri senza dimenticarci che a fine gennaio se tutto va bene riavremo anche Asensio Perché avevo un po' anticipato la mia domanda, le stavo per chiedere se Asensio tornerà al Genova e invece dovrebbe rimanere al Pescara? E perché dovrebbe tornare al Genova? Asensio mica se un giocatore si fa male non è che lo buttiamo in mare, noi abbiamo riposto tanta fiducia in Asensio e in Seterra Seterra magari voi non lo conoscevate, tanti non lo conoscevano, noi eravamo convinti di aver preso un buon giocatore e lo sta dimostrando e Asensio lo dimostrerà Presidente allora parliamo di questa partita, un'altra prova positiva del Pescara che ai punti avrebbe meritato la vittoria, Brescia che non ha praticamente mai tirato in porta Sì peccato per quel calcio di rigore perché diversamente credo che non avremmo registrato sul taccuino nessun tiro in porta da parte del Brescia e nessuna azione pericolosa Al contrario il Pescara si è avvicinato tante volte alla porta del Brescia, certo bisogna essere onesti, non è che noi abbiamo fatto chissà che cosa, però ai punti sicuramente avremmo meritato qualcosa in più A proposito di rigori, dubbio quello assegnato al Brescia, netto quello non dato al Pescara su Memusciai, non voglio metterla in difficoltà Presidente però con Prontera il Pescara non è molto fortunato se non ricordiamo male Prontera è stato l'arbitro della gara con il Perugia quando furono convalidati due gol in netto fuorigioco Sì però voglio dire anche loro possono sbagliare, io non credo che Prontera venga a Pescara con l'idea di danneggiare il Pescara No è una constatazione di fatto Ci sta che possa sbagliare anche l'arbitro, nel caso di Memusciai ha sbagliato in maniera grossolana Resta questa buona prestazione del Pescara dopo l'ottima prestazione con il Brescia, dopo il buon punto di Pisa è un po' cambiato il vento Presidente Ma il Pescara sta facendo quello che doveva fare, che doveva fare dall'inizio perché se avessimo giocato le partite in questa maniera probabilmente saremmo in una posizione di classifica più tranquilla e staremmo parlando di altro però per fortuna c'è tempo, però non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo uscire dalle sambie mobili della classifica cercare di rialzarci il prima possibile Le ultime due domande Presidente, la prima riguarda il recupero graduale di diversi giocatori questa sera è tornato in Zita, Balzano sta meglio, recuperato Masciangelo che potrebbe essere convocato domenica per la gara di Chiavari insomma pian piano si stanno recuperando anche i giocatori, poi arriverà anche il turno di Busellato Sì sì, piano piano speriamo di recuperarli tutti e di non avere più problemi come quelli che abbiamo avuto perché devo dire che nel 2020 a livello di infortunati abbiamo avuto veramente tanti infortunati quindi speriamo che nel 2021 non si ripetano e quindi se abbiamo la squadra al completo credo che possiamo dimostrare il nostro valore, anzi i ragazzi possono dimostrare il loro valore in campo Domenica c'è questa gara di Chiavari, guai a pensare ad una partita semplice ieri sera la squadra Ligure ha perso a Salerno in maniera immeritata non è sicuramente una formazione allo sbando? Assolutamente no, Lentella è una squadra forte anche loro hanno diversi giocatori fuori e quindi anche loro come noi sono stati un po' sfortunati però noi dobbiamo giocare come se andassimo a giocare contro la Salernitana perché se andiamo a Chiavari pensando che giochiamo contro l'ultima della classe non andiamo da nessuna parte quindi non abbiamo fatto nulla e dobbiamo essere cattivi come lo siamo stati nelle ultime partite Per chiudere un'ultimissima battuta Presidente, il Comune di Silvi è pronto ad ospitarvi sui loro campi, è così? No, noi siamo andati a fare una ricognizione perché c'è questo bando che hanno tirato fuori loro se ci sarà la possibilità siamo a disposizione Silvi che una volta era stato individuato come centro per un possibile centro sportivo del Pescara Sì, poi non se ne fece nulla perché non ci dietro le autorizzazioni noi avevamo praticamente fatto tutto in quell'occasione poi non si poteva fare, non mi ricordo quale fu il cavillo amministrativo per il quale non si poteva costruire questo centro nel posto che avevamo individuato però Silvi è sempre una città che è stata sempre molto vicina al Pescara ci sono tanti tifosi di Silvi che vengono allo stadio speriamo di rivederli il prima possibile appena sarà possibile riportare i tifosi allo stadio e quindi sarebbe anche un modo per riportare la squadra anche nei posti dove ha i propri tifosi se sarà possibile noi, ripeto, siamo pronti